e metto a fuoco sulla sedia prima facendo una panoramica verso il basso metto a fuoco sulla pianta dietro alzando la panoramica metto a fuoco il tetto della casa lo spigolo del tetto della casa sopra alzando la panoramica questo vuol dire mettere l'obiettivo quasi infinito e adesso metto a fuoco sull'edera che ho di fianco che ha 30 centimetri di distanza che vuol dire far girare tutta la ghiera di messa a fuoco all'indietro che potrebbe causare vibrazioni nel frattempo mi sposto e rifaccio lo stesso movimento e lo rifaccio ancora rifaccio lo stesso e lo faccio ancora e ancora e ora metto a fuoco sulle sedie facendo una panoramica verso il basso quella più lontana da me quindi vado diretto in diagonale e ora prendo la canna dell'acqua al centro del fotogramma che hanno fatto Grazie a tutti